L'Inps ha attivato il consulente digitale delle pensioni che guida gli utenti che ne hanno i requisiti e contattati tramite MyInps ed email ad ottenere prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione. Il servizio offre prestazioni previdenziali che riguardano il bonus 14esima, il supplemento di pensione e l'integrazione al trattamento minimo. Il servizio è disponibile al sito Inps.it accedendo con identità digitale Speed che senza autorizzazione. Da aprile ad oggi oltre 356.000 gli accessi al consulente digitale con una media feedback di 4,45 su 5. Grazie a tutti.